Nell'arco del 2019 con quelle che erano le risorse derivate dal bilancio 2018 che è stato per tutti un anno orribilis per quanto riguarda la finanza italiana, comunque siamo riusciti a mantenere lo stesso trend erogativo degli anni precedenti, 4 milioni 800 mila euro e senza intaccare quelle che sono le nostre riserve per quanto riguarda le erogazioni e questo è stato un risultato importante. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto degli interventi nei settori rilevanti e nel settore ammesso dello sviluppo locale però abbiamo operato con il nuovo sistema soprattutto dei bandi che hanno un grande successo, bandi sempre più specifici per cogliere quelle che sono al meglio le esigenze del territorio. Abbiamo fatto però anche iniziative proprie e tra queste iniziative proprie sicuramente spicca il progetto Urban Regeneration che è un progetto di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti insieme alle grandi multinazionali che insistono nel territorio di Terni e Nardi. Abbiamo fatto qualcosa sicuramente di significativo per lo sviluppo locale attraverso il sostegno alle manifestazioni sportive ma soprattutto attraverso il convegno dell'Aspen Italia sul rilancio del marifatturiero in Umbria con particolare focus attenzionale sul comprensorio di Terni e Nardi. Questo è un convegno che ha raccolto anche studiosi internazionali, è un convegno dal quale è stato elaborato un documento che è stato pubblicato quindi molto utile sia per gli operatori del settore ma anche per i nostri amministratori locali. Poi abbiamo portato avanti quello che è l'attività di fondo della fondazione, un'attività che riguarda la promozione della cultura quindi mi riferisco in particolare ai concerti ma soprattutto alle mostre. Nell'arco del 2019 abbiamo concluso la mostra a gennaio-febbraio, la mostra sui fondi d'oro Umbri del 300-400-500 e questi giorni venerdì abbiamo inaugurato questa mostra immaginaria, logica ed arte dal 1949 a quasi i giorni nostri, una mostra con 63 opere di 57 artisti italiani di altissimo valore sia artistico ma anche economico. Questa è una mostra che sarà aperta fino al primo marzo nei giorni da venerdì, sabato e domenica e ci aspettiamo una grande affluenza e già vi posso dire che i dati in questo fine settimana sono molto molto confortanti.